...en loro rompendo la verde, en loro detruisando bien l'Oceano. Ciao a tutti, vi ricordate la questione dell'Oca che esplose nel mese di luglio con grandi polemiche per l'assegnazione diretta dell'organizzazione di questa tre giorni all'Associazione Culturale Aprile. Ecco, la tematica degli spazi a Milano è ancora molto accesa e viva, tant'è che oggi, 23 ottobre, stanno per sgomberare la casa occupata a Lambretta e venerdì 26 si terrà un altro incontro organizzato dall'assessorato Aldemanio sempre per spiegare questa nuova delibera dell'assegnazione degli spazi. Ecco, ritornando a Oca, abbiamo deciso di intervistare anche l'Associazione Culturale Aprile, quindi esterni, in particolare Beniamino Saibene e Nicola Abini e attraverso Radio Bici di Maurizio Guagnetti abbiamo intervistato l'assessore, abbiamo fatto una domanda all'assessore Boeri e potete vedere entrambe le interviste cliccando qui per Boeri e cliccando qui per esterni. Buona visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti!